Ciao a tutti amici e amiche di Woman Times, guardate che bella tavolata, sono qui innanzitutto con l'editor Giorgio Ferraiolo, bellissima la mia amica e con tutto lo staff, guardate che bella tavolata, oggi ci siamo riuniti dopo la grande avventura di Sanremo, è stata una bellissima esperienza sicuramente da ripetere insieme a tante altre, quindi mi raccomando seguiteci, seguiteci, ciao, 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 abbiamo portato a casa questa esperienza ricca di emozioni, di valori anche perché tanti sono stati i valori sociali e etici che quest'anno questa settantesima edizione ha portato a casa e Woman Times le ha raccontate, quindi continuate a seguirci perché noi siamo qui in un work in progress per calendarizzare tanti eventi che vi racconteremo. Allora io ho visto le telecamere di Woman Times, i voti di Woman Times a Sanremo, non ci vedevo crede, no, ovviamente no, il palco, cioè Sanremo, l'Ariston è il rene un po' delle donne da sempre, quindi Woman Times non poteva mancare, bravi, siete stati tutti bravissimi e noi ci saremo sempre, mi metto anche io in mezzo, insomma in questa squadra, bravi. Io vi troverò alla pubblicità, forza Woman Times. Come vedete il nostro entusiasmo è alle stelle, ci siamo buttati, abbiamo provato a volare e il nostro volo poi non è stato così basso, è stato discretamente alto, quindi con Sanremo naturalmente ci vedremo, mi auguro l'anno prossimo, ma noi work in progress, come avete visto dalle mie collaboratrici, dalle nostre giornaliste, dalle nostre inviate di Sanremo e non solo, continueremo a regalarvi contenuti interessanti, ma perché no anche allegri e soprattutto contenuti che riguardano le donne, le donne non solo, ma soprattutto le donne che vogliono esserci, quindi io mi levo gli occhiali, vi aspetto su Woman Times, a presto, seguiteci!